ciao a tutte bentornate nel mio canale se siete nuove benvenute io sono stefania oggi realizzerò il setup per il mese di maggio nel mio bullet journal come sempre utilizzerò degli adesivi dei washi tape che ho acquistato recentemente questa bellissima confezione con 50 washi tape a meno di 5 euro quindi un affarone insomma come sempre mi vedrete lavorare sulla mia cover page quindi il mio open with me alla fine riguarda solo la copertina non vi faccio vedere tutte le altre pagine quando le realizzo ma alla fine di questo video come sempre c'è un flip flow in cui potrete vedere tutto il setup mensile questo perché ho deciso di non fare video incredibilmente lunghi anche perché comunque continuo a creare gli stessi identici spread e non ho cambiato assolutamente niente quindi sono gli stessi spread e li utilizzo nello stesso modo non ho cambiato proprio nulla per cui mi sembra davvero stupido continuare a riproporvi lo stesso identico video soprattutto quando ormai quello che faccio è sempre scrub booking quindi non c'è tra virgolette niente di nuovo mi sembra più che altro abbastanza noioso quindi alla fine ho deciso che per quest'anno funzionerà così per il bullet journal vi porto un plan with me con solo la copertina il tema come sempre scrub booking è utilizzato questo set di adesivi a tema direi hobby quindi c'è un po' di tutto da hobby per quel che riguarda la pasticceria quindi un po' il cucinare a hobby più creativi artistici al cucito insomma mi sembrava una bella idea poi come carta ho trovato ancora della carta in giro per casa che avevo preso parecchio tempo fa principalmente floreale oppure in tinta unita insomma o diverse sfumature niente di particolare e poi ho usato questi washi tape sono davvero ossessionata perché 50 washi tape a meno di 5 euro per me è stato un affarone alcuni non sono proprio diciamo tra i miei preferiti ma altri invece li trovo stupendi e sono estremamente felice di averli comprati perché davvero 50 washi tape a meno di 5 euro perfetto 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 per esempio per esempio pezzetto fare pezzo capo Siamo alla fine del video quindi come sempre vi lascio con un flip through delle pagine che ho realizzato per maggio Fatemi sapere con un commento che tema avete scelto voi per maggio Io vi ringrazio ancora tantissimo per il supporto Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per altri video di questo genere Vi ringrazio ancora tantissimo per il supporto e ci vediamo alla prossima, ciao!